Mi trovo davanti alla Gioconda, ma attenzione, non sono a Louvre, ma in pieno centro di Forlì. E oltre al quadro di Leonardo ci sono anche dei Van Gogh, Caravaggio, Silvestro Lega, ma non sono gli originali, bensì copie d'autore. Da dove nasce questa passione di ridipingere i quadri famosi? La passione che ho avuto sempre da quando ero un bambino, che poi dopo non ho potuto coltivare perché ho lavorato e quindi sono stato impegnato, però sempre andando a vedere musei, mostre, sono stato tre volte a Louvre, sono stato a Milano a vedere mostre importanti, a Roma l'anno scorso a vedere il Caravaggio, per dire. Però ho dedicato questa passione che io avevo per dipingere, l'ho potuto sfruttare solamente quando sono andato in pensione, tre anni fa. Lei li definisce delle copie queste? Queste sono copie. Io infatti non sapevo bene il termine falso, è stato detto falso d'autore, pensavo fosse quasi un'offesa, invece è un pregio. E infatti io mi sento realizzato anche quando faccio queste cose che mi appassionano a fare delle cose che probabilmente non è arte, perché l'arte è un qualche cosa che dovrebbe uno esprimere da solo, una cosa sua, una cosa... Ma io quando sono di fronte a questi quadri, che la maggior parte li ho visti, dal vero, provo una sensazione talmente di ammirazione verso questi artisti che mi porta poi a seguirli, in un certo senso a seguirli, pur non avendo scuola, non avendo niente.